Vendenuti Ostuni giallo-gru Qui su Radio Ostuni il cuore della città Batte sempre di più Tra Gesù e Gianmarco a condurre con passione Andrei in regia, crea la giusta atmosfera e azione Ostuni giallo-gru, cuore e passione Sono il nostro motore Ostuni in ogni spart, in ogni trompo e colore La voce si alza, il ritmo ci trascina Siamo tutti in campo in questa avventura divina Con Francesco e Gianmarco che raccontano col cuore Ogni partita, ogni sogno, ogni emozione Con la forza di chi ama e non si arrenderà Ostuni giallo-blu La nostra città brillerà Ostuni giallo-gru, cuore e passione Sono il nostro motore Ostuni in ogni spart, in ogni trompo e colore La voce si alza, il ritmo ci trascina Siamo tutti in campo in questa avventura divina Buonasera cari amici, cari amiche Buon pomeriggio Decidete voi se è pomeriggio-sera Intanto noi abbiamo vissuto un'altra bellissima domenica di sport Io dico sport perché oggi non parleremo solo di calcio Vi daremo un po' tutto quello che è accaduto per le nostre squadre Benvenuti a Ostuni giallo-blu Vi presento subito Gli ospiti intanto grazie ad Andrea Zaccaria in regia Gianmarco forse si è dimenticato di venire oggi Speriamo di ritrovarlo tra un po' Ben trovato il direttore generale dello Stuni SD Ostuni Calcio 24 Sandrino Scalone Maglietta Lo dico perché ci sono quelli che ci ascoltano in radio Sandrino Camicia rigata bianco-cereste Per lui stasera E poi graditissimi ospiti Come Sandrino del resto Francesco Frumento Difensore della SD Ostuni Calcio 24 E poi il bomber Sowe Mudu O Mudu Sowe Abbiamo scoperto che Mudu è il suo nome ragazzi Il suo cognome Sowe Lo chiamiamo per nome Va bene lo stesso Ok va bene Va bene Va bene E abbiamo finalmente trovato un grande centravanti A Ostuni Abbiamo sempre avuto Il terrore di non avere un vero centravanti Quest'anno la prima cosa che hai fatto Sei andato a recuperarlo Un vero centravanti Uno di quelli che le squadre avversarie temono E' vero Sandrino? In realtà Buonasera a tutti innanzitutto Sì Lo temono perché E' molto conosciuto in queste categorie Io ne sono orgoglioso Del fatto che lui Sia Abbia accettato di venire qui a Ostuni Anche perché Noi Insomma Ho avuto il piacere di conoscerlo Appena arrivato qui in Italia E quindi Diciamo che c'è Mi lega anche una questione effettiva Al di là del fattore calcistico Che Diciamo Parlano i fatti Parlano a suo favore Insomma Ha vinto più di qualche campionato In queste categorie E alla fine E' stato sempre uno di quelli che ha fatto Tanti gol Allora stiamo vedendo delle immagini Chi ci ascolta in radio Non le vede ma le raccontiamo Stiamo guardando le immagini Di quello che è accaduto a fine gara ieri Una festa davanti ai tantissimi tifosi Che sono arrivati anche a Tarsano In una domenica pomeriggio di novembre Insomma Una trasferta lunga Una trasferta di domenica Complicata Insomma Ancora una volta abbiamo visto L'entusiasmo e la passione dei tifosi Che è importante È fondamentale È bellissima Però senza la vittoria Non sarebbe stata la stessa cosa La squadra Ci ha messo del suo Nel chiudere la partita Quanto prima Francesco dal primo momento Adesso andremo a vedere Le immagini di questa gara Tra l'altro C'è stato anche un Brutto episodio Che fortunatamente Si è risolto bene Il grave infortunio Per Gomez Che abbiamo avuto Samuel Gomez Che abbiamo avuto ospite La settimana scorsa Qui da noi Grazie a Dio per lui Si è risolto tutto E parleremo anche di questo Grave infortunio Però fortunatamente La può raccontare Francesco avete preso La partita sin dal primo momento Con il piglio giusto Approccio perfetto Si diciamo intanto Buonasera a tutti Era fondamentale Vincere ieri Perché dobbiamo arrivare Col Fasano A domenica A punteggio pieno È stata una gara Non facile Sapevamo che gli avversari Comunque giocavano Palla a terra Ci avevano messo in difficoltà Abbiamo messo sul piano fisico Emotivo Siamo andati su tutti i palloni Poi per fortuna Abbiamo sbloccato subito Grazie a Mutu Forse Secondo me Dovamo chiuderlo un po' prima Nel primo tempo Perché abbiamo rischiato Qualcosina Con l'uscita di Samuel Anche però Ripeto Siamo una rosa valida Poi hanno entrato anche Pecere Il posto suo Il retto bene Siamo un grande gruppo Ripeto E allora andiamo ad ascoltare Proprio dalla voce di Andrea Zaccaria Che ieri ha fatto la radio telecronaca Di questa partita Andiamo a vedere gli aerex di questa partita Chi ci ascolta per radio lo capirà Ma ve lo racconteremo poi ancora meglio Ascoltiamoli I giovani Krios per scalare La classifica Lo Stuni per confermare il suo primato Pala per Bari Sulla fascia sinistra del campo Rientra verso il centro sul destro Pressato Rientra ancora Serve Pinto Apertura per Mutu E 1 a 0 Stuni Subito Mutu Il vantaggio giallo-blu Lo segna Mutu Primo minuto E lo Stuni già avanti Gomes è ancora a terra Sicuramente per il colpo di test subito in precedenza Auguri di pronta guarigione a Samuel Gomes Palla per Villardi Contro Tamburrano Villardi anticipa Tamburrano Cocozza esce Intercetta Tamburrano Sombrero Rinvio lungo Musli in controllo Serve in profondità Simone e Bari A 2 per 2 Grande occasione per lo Stuni Bari In mezzo a 3 Riesce a passare in area di rigore Bari giù Ed è calcio di rigore Per lo Stuni Simone e Bari dal dischetto Contro Spina E Spina para Torna a Bari e Spina In due tempi Riesce a Salvare i giovani Crios Tamburrano Palazzo Apertura per Serio Il cross Il cross Nel di rigore di Serio A cercare Musli E il 2 a 0 Arriva Krener Musli Pompamea Pompamea Supera Pecere Pompamea la parada di Cocozza Tanzariello Mette ordine Pinto In profondità Ottima palla per Cira C E arriva poi L'autogol Ed è 3 a 0 Stuni Da Talsano è tutto Grazie ancora a tutti Lo Stuni vince 3 a 0 Contro i giovani Crios Con Lorenzo Cocozza Lorenzo Lo Stuni è la migliore di pesa del campionato E sicuramente anche grazie a te Oggi che partita è stata? No, innanzitutto non è solamente grazie a me Ma è grazie tutta la squadra Perché Ognuno aiuta l'altro Quindi È un risultato soprattutto dello Stuni E non del mio personale Ecco La prossima partita è contro il Fasano Una sfida importante Come state preparando a questa sfida? Come ci prepariamo con tutte le altre partite Con impegno e dedizione Sicuramente è una partita un po' più importante delle altre Però con il supporto dei tifosi sicuramente Ci danno con la marcia in più Quanto è importante per te il legame con il gruppo Con il buon clima nello spogliatoio e tutto quanto? Guarda, secondo me è una squadra che ha un buon spogliatoio Parte sicuramente Secondo me è 1-0 sul campo E quest'anno abbiamo la fortuna di avere un gruppo compatto E molto unito E soprattutto quando facciamo gli allenamenti Entri in campo molto sereno e molto felice E beh, queste le dichiarazioni di Cocozza Andiamo a vedere i risultati e classifica Del campionato di promozione di... Di prima categoria Girone B Andiamo a vedere come è andata ieri Con i risultati della sesta giornata Ceras Brindisi San Vito 0-4 Ceglie Motto da 2-0 Palagenello Castellano 3-2 Noi Cattano la terza a 4-1 Noci Rutiglianese 0-2 Giovani Crio Sussuni 0-3 Latiano State 4-0 Riposava ieri proprio il Fasano Andiamo a vedere la classifica Con lo Sulla in testa con 16 punti Il San Vito ed il Fasano seguono con 13 Poi Rutiglianese e Noi Cattaro 12 Calcio Ceglie 11 E poi Latiano 7 Castellano 5 Noci e la terza 4 Insieme ai giovani Crios 3 il Palagenello Motto da e Brindisi 2 punti Chiude lo State con 1 Allora, facciamo un bilancio Di queste prime 6 giornate Ossuni in testa Alla classifica con 5 vittorie Ed un pareggio San Vito e Fasano seguono Però hanno una partita in meno Quindi potenzialmente Potevano essere anche loro In testa al campionato Ti aspettavi più o meno Questa classifica Sandrino Dopo queste giornate? Onestamente Da parte nostra Diciamo che Il lavoro ci sta dando ragione Però Io sono Diciamo Ho la sensazione Che ci sono altre squadre Attrezzate come noi Quindi noi Dovremmo tratterire il nostro entusiasmo Nonostante la prima posizione E quindi Siamo all'inizio Dovremmo vedere partita dopo partita Quello che ne viene fuori Noi chiaramente L'intento è quello di Di far bene Fino alla fine Però Siamo all'inizio E Secondo te le protagoniste Saranno queste prime Quattro Barra cinque formazioni Perché Includiamo anche il Ceglie Quindi Queste sei formazioni Si giocheranno Almeno il primo posto E poi gli altri posti utili? Ma In genere All'inizio Voglio dire Dare una definizione precisa Non è possibile Perché poi A lungo andare Bisogna vedere cosa succede Di come Sono partite Come sono attrezzati Diciamo la rosa Che hanno a disposizione Io Ritenco che Il Fasano Che l'anno scorso Ha già fatto la finale di playoff E' una delle squadre Che ambisce a salire Il Noi Cattaro Per Per quello che ho visto Anche E il San Vito E' un'altra squadra Di quelle Che insomma Ha questa caratteristica Quindi L'Utiglianese Noi Cattaro Tu secondo te Comunque Se la giocheranno Ecco perché E' un campionato Molto difficile Anche perché Vincere i campionati E' sempre difficile Quest'anno Addirittura Ci sono più Addirittura Io Quello che Quello che è noto Che ci sono più squadre Attrezzate Per puntare A vincere questo campionato Quindi Diciamo che Ci sarà più gusto Eventualmente Ci riusciamo noi Va bene Tra un po' però Racconteremo La storia Di com'è nata La SDU Perché qui abbiamo Il protagonista Secondo me Lo dico io Non me l'hai detto tu Assolutamente Me lo dico io Quindi abbiamo il protagonista Principale Di questa bella storia Ma poi dopo Durante questa trasmissione Ce la racconteremo Anche perché Ecco Giusto per darci Un ordine Parleremo poi In questa trasmissione Anche di quello che è accaduto In altre discipline Calcio a cinque Palla a volo Tennis Perché ci piace dare un po' I risultati di tutto Lo sport ostunese Ecco La rinascita del calcio La rinascita del calcio Di quest'anno Sta portando Alla rinascita Dell'entusiasmo In tanti sport Questo ci piace Sottolinearlo E quindi Vogliamo cogliere Questo segnale Ho detto prima A Modu Finalmente Un bel cross Che è potuto mettere Era una battuta Non era la prima volta Però L'impressione L'ho detto prima La settimana scorsa A Mr. Bruni L'impressione Che a volte la squadra Non abbia ancora capito Come servirlo E O è lui Che non ha ancora capito Come farsi servire Dalla squadra Mr. Bruni In maniera Garbata Disse Forse un po' E un po' Tu che dici Cos'è? Perché Lo Stuni Tu hai un potenziale straordinario Inutile che ci prendiamo in giro Puoi essere il protagonista Di questo campionato E ancora Sembra Che le tue potenzialità Siano tantissime Che dici? Sì Ieri In occasione del primo gol Se Andrea ce lo fa rivedere Finalmente Se tu davanti al portiere Non sbagli È difficile che sbagli Quindi Sei marcatissimo Però ieri Hanno capito Finalmente Come devono Servirti Bene Vero? Sì Emozionato Sì Emozionato Però A questo Se me lo consenti Certo Vorrei dire questo L'abbiamo visto Andrea Rivediamolo un attimo Sì sì Come tutti sanno Questa è una squadra Eccolo qua Guardate Il cross dipinto Tra l'altro un cross da tre quarti Lo va a pescare proprio in mezzo Alla difesa Allora Allora In riferimento a quello che hai detto Che hai detto prima Se viene servito bene Oppure in maniera diversa Da quello che sono le sue caratteristiche Io devo dire anche che Adesso parla l'attaccante Fa l'attaccante Che c'è Fa l'attaccante E mi sono dilettato a fare il mister Quindi devo dare atto che Una squadra ex nova Come quella nostra E' chiaro che ancora Nonostante stanno da un paio di mesi insieme Ci potrebbero essere questo tipo di difficoltà Quindi è probabile che andando avanti Si affineranno questi meccanismi E quindi lui già rende abbastanza Sicuramente se queste cose saranno migliorate Darà un contributo maggiore Di quello che già sta dando Che è tanto In allenamento lo prendi tu Francesco di solito Dipende del mister Come fare formazioni Però Ma è dura sotto a lui no? Si E' vero Va bene Allora Noi Allora vogliamo capire le condizioni intanto di Samuel Gomez Anzi ieri un po' di paura c'è stata a un certo punto Eh? Ve la siete vista nera Perché il ragazzo dopo la botta Ehm Insomma Un po' di paura l'avete presa Ecco Anche Per quanto riguarda Samuel Gomez Vorrei spendere due parole Come l'ho spese per lui Anche lui Appena arrivato in Italia L'ho già detto tante volte Però mi piace ripeterlo Perché Anche lui Ha accettato l'invito Nonostante Eh Gli ultimi tre o quattro anni Ha giocato in eccellenza Ha accettato di venire a giocare In prima categoria Eh E questo Come dicevo prima Mi ha fatto molto piacere Quindi eh Perché ci lega Eh Diciamo Una Un affetto particolare Con questi ragazzi Detto ciò Ieri Effettivamente Quando è successo Questo episodio Eh Mi sono preoccupato Perché lui E' uno di quelli Che non molla mai Ah Quindi quando ho capito Che lui stava uscendo Ho capito che c'era qualcosa Che non andava Si direttamente Non voleva uscire Eh E infatti Ma Le condizioni Voglio dire Erano abbastanza serie Poi fortunatamente Diciamo Tutti gli accertamenti Che sono stati fatti Insomma Diciamo Che eh La La disponibilità Subito Dell'ambulanza Che l'ha portata in ospedale Ecco Ti interrompo Perché abbiamo in diretta con noi Presidente Gino Francioso Che ci racconta nei dettagli Che cosa è accaduto Ci teneva a raccontarcela E lo Ovviamente Lo accontentiamo E lo ringraziamo Buonasera Presidente Buonasera Buonasera a tutti Allora Eh Intanto Pericolo scampato Samuele sta bene Possiamo Possiamo intanto Tranquillizzare tutti Samuele sta bene E con ogni probabilità Domenica Lo rivedremo in campo Speriamo Allora volevo Eh Sì Samuele sta bene Lo diciamo subito Così Diciamo Ed è la cosa più bella Di qualsiasi dubbio Volevo brevemente Insomma Raccontare quello che è successo ieri Eh Evitando Evitando Insomma Di Dilungarsi Su Alcuni dettagli Samuele ha avuto Lo scontro di gioco Con Con un avversario Praticamente È una capocciata Che ha preso E E Ha tentato Di rimanere in campo Ma poi non ce l'ha fatta E quindi Quando ci siamo resi conto Che la situazione Era abbastanza seria Eh Io sono subito Rientrato dagli Degli spazi Ero andato Insomma Con la società E con Con i calciatori Con i pullman E quindi stavo vedendo La partita Come gli altri E Una volta verificata Insomma la gravità Della situazione Sono ritornato Negli spogliatoi E devo dire la verità E qui già Passano i primi ringraziamenti Devo Cioè La società Giovani Crios Avevano già Eh Chiamato l'ambulanza E Una volta entrato Negli spogliatoi Insomma Ci siamo trovati di fronte In una situazione Abbastanza critica Perché Samuel Oltre ad avere la botta Aver ricevuto una botta in testa E quindi Insomma Lamentava un fortissimo dolore Alla testa E Aveva anche difficoltà respiratoria Eh Quindi una volta arrivata L'ambulanza Siamo andati in ospedale E E la TAC Eh Per fortuna Diciamo È risultata negativa Tutti i valori Sono a posto Non c'è stato Nessun tipo di frattura Nessun tipo di Di trauma Che possa Che che Ci possa far pensare A delle conseguenze Eh future Quindi il ragazzo Il ragazzo ha ripreso bene Eh Sta bene E E quindi Insomma Oltre a ringraziare la società Per la Per la Per la tantissima Eh Reazione E disponibilità Nel chiamare il 118 Eh Voglio Eh Ringraziare anche Ringraziare anche tutti i medici E E Insomma E Gli ausiliari dell'ospedale Santa Annunziata di Di Taranto Che sono Insomma Hanno preso in carica Il nostro calciatore Veramente Con Con grande Con grande affetto E Sinceramente Non mi aspettavo Di trovare Eh Insomma Tantissima disponibilità In un In un grandissimo In un grande ospedale Come quello di Taranto Quindi un ringraziamento Veramente A A tutti coloro Che hanno Eh Fatto sì Che insomma Che la cosa rientrasse Eh Nel breve E Insomma Devo fare un ringraziamento Speciale A una dottoressa Del pronto soccorso Eh Dell'ospedale Marilina Eh Angelini Di Massafra Che insomma Ha messo anche del suo Cioè Non è solo una questione Di accoglienza E di No Di Diciamo Diciamo Dell'infortunato Ma Veramente ha messo Tanta attenzione Tanto amore insomma Nei confronti del Del nostro ragazzo Insomma Eh Era giusto Hai fatto benissimo Eh A sottolineare questi aspetti Perché eh Altrimenti rischiamo di fare Quando c'è da fare polemica Facciamo polemica Ma è giusto Quando ci sono questi aspetti E vengono colti Eh Certo La notizia più importante È che Samuel sia bene Che eh Il problema fortunatamente Eh È risolto Però questi aspetti Sono fondamentali E hai fatto benissimo A sottolinearli Bene eh Grazie presidente Ti lasciamo al tuo lavoro Eh Questa sarà Una settimana intensa Anche sotto il profilo organizzativo Perché Domenica Eh È atteso il pubblico Delle grandissime occasioni Ancora più di quello che abbiamo visto Nelle scorse settimane Per cui sicuramente sarete impegnati Siete già impegnati Nell'organizzazione Anche sotto il profilo Dell'ordine pubblico Perché Eh È importante Eh Garantire Il clima bello Che si è respirato Nelle scorse settimane Sì A tal proposito Ho già contattato La società del Fasano Insomma Siamo già in contatto E faremo di tutto Per Affinché La partita di domenica Sia una Sia una testa E non Non solo una partita E per chiudere Volevo dire Che abbiamo Invitato E anche Accettato L'invito Il presidente Della federazione Vito Tisci Ah Benissimo E quindi Domenica Avremo anche Una presenza importante Allo stadio Questa è una Gran bella notizia Anche questa Questa è il modo migliore Per riconciliare Ostuni Con il calcio Anche con Con la federazione Grazie Grazie ancora Gino Francioso Grazie a voi Questa è una bella notizia Grazie a voi Buona terapia Grazie Questa è una bella notizia Sandrino E qui mi aggancio Sul lavoro fatto in estate Un lavoro Che è partito da zero E partito dalla cenere Di quello che era rimasto Con la voglia di ripartire E io Credo che sia giusto Darti atto e merito Del fatto Di quello Delle responsabilità Che ti sei assunto Poi tutti Gli amici che hanno deciso Di accogliere Questa idea E poi L'abbiamo sempre citati Si sa Però Consentimi di Sottolineare Il fatto che Ostuni ti deve La ripartenza Quest'anno Ostuni ti deve La ripartenza E anche A un certo punto Il gesto L'umiltà Di decidere Di scegliere Questo ruolo Avresti potuto anche Fare allenatore Quest'anno Diciamoci Questo si diceva Hai deciso Di accettare Di fare Questo ruolo Che è un ruolo Che ti consente Di seguire Ancora di più La squadra Ecco Queste sono cose Che è giusto dirsi Ed è bello dirle Allora Il tutto parte Dalla difficoltà Che viveva Ostuni Sotto all'aspetto Calcistico Una città Come Ostuni Non si poteva permettere Di non avere Né una squadra Di calcio Parliamo di calcio Perché poi Anche le altre Discipline Erano Erano in grande Difficoltà Sono in grande Difficoltà Quindi Nel momento in cui C'è stato Quell'evento Increscioso Io ne parlai Onestamente Con il sindaco Al quale Dissi Però qua Bisognerebbe fare Qualcosa E lui mi disse Con molta Sincerità Effettivamente Sì Non possiamo Vivere Come Diciamo Non avendo Questa Queste discipline In atto Perché tutti Ce l'hanno E noi E che cosa Bisogna fare E di lì Siamo partiti Dico guarda Una delle prime cose Che bisogna fare È andare In federazione In federazione Insomma E cercare Di ottenere Qualcosina Per poter Ripartire Poi Se loro Ci danno Diciamo Delle Indicazioni Noi Ci organizzeremo Come società Così come abbiamo fatto E di lì È partito Tutto questo Meccanismo Che Insomma Ci è costato Tanto In termini Di tempo E di volontà E dato che Questo è un hobby Che io Frequento Da tanti Da tanti anni Prima Da giocatore Dilettantistico Chiaramente Poi mi sono Dilettato Ad allenare Fino all'anno scorso Effettivamente Questo gruppo Ci credeva Del fatto Che dovevo Allenare io Io questi ragazzi Li ho Diciamo Li ho chiamati Tutti io Ma non perché Il mister Non era Nelle condizioni Di poterlo fare Ma perché lui In questa categoria Conosceva poco E quindi Mi sono Adoperato A fare questa squadra E lì Mi sono reso conto Che non potevo Portare avanti Quel mio desiderio E quella voglia Di allenare Perché altrimenti Non sarei stato In grado Di poter seguire Al meglio Questo percorso E questo progetto E' stato un gesto Di responsabilità Non da tutti Perché in quel momento Nessuno ti avrebbe detto niente Se avessi deciso Di allenare Quindi mi piace Sottolineare Questo aspetto Stasera Perché è giusto Che tutti sappiano Che in qualche modo In quel momento Hai fatto un passo indietro O di lato O di lato Per lasciare spazio A un allenatore Che sta confermando Tutte le sue potenzialità E ha detto addirittura Che è orgoglioso Di allenare questa squadra L'altra volta Non so se l'hai sentito Sicuramente Mi ha colpito il fatto Che un allenatore Che ha visto Palcoscenici Decitamente diversi E' orgoglioso Di allenare Ho letto anche una sua intervista Di recente Che mi ha emozionato Per le parole Che ha detto Davvero E' orgoglioso Di allenare questi ragazzi Che si stanno mettendo A disposizione Che la mattina Sono a lavorare Sono a faticare Sul posto di lavoro Il pomeriggio Sono a correre Sul campo di calcio Ed è vero Questa cosa Lui me l'ha sottolineato Un sacco di volte Mi ha sempre detto Che E' molto contento Di allenare questi ragazzi Soprattutto Per l'aspetto umano Che hanno Perché questa E' una cosa importante Perché questo Gli consente Anche a lui Di lavorare Con più Tranquillità Insomma In queste categorie E' uno degli aspetti Che bisogna Insomma Tenere presente Insomma E allora Tra un po' Oltremmo a vedere Il prossimo turno Entreremo anche Nel merito Della prossima Giornata Anzi Lo vediamo subito Castellana Calcioceglie La terza Ceda Sbrindisi Motto La Noci Rutiglianese Giovani Crios Statte Noi Cattaro San Vito Palagianello E il big match Lo Stuni Fasano Che ripetiamo Si gioca alle 16 Domenica Come tutte le gare Interne Dello Stuni Riposa Il Latiano Allora Francesco Questa partita Importante Decisiva Come Ve la immaginate Cercherete Di non dare Troppo Troppa importanza Non la volete Caricare troppo Secondo te Come ha detto il direttore Siccome l'anno scorso Quando hanno fatto la finale Playoff Sappiamo che è una scuola Attrezzata Quindi Sappiamo che Ci troviamo di fronte Dobbiamo affrontare Tutte le gare Di questo girone Come fosse una finale Di Champions Tutte le partite Tutti i palloni Dobbiamo vincere Dobbiamo far parlare Il campo Insomma E allora Capiremo anche Tra un po' Che Aria si respira Dall'altra parte Perché ci piace Ascoltare Anche Da un lato La seconda squadra Di Fasano Però lì c'è un progetto Serio dietro Messo in campo Da Gian Claudio Semeraro Tra l'altro Una vecchissima Conoscenza Dello Stuni Calcio Ha giocato Nello Stuni Con Importanti Risultati Insomma Sarà una partita Davvero ricca Di emozioni E di ricordi Anche Perché Gian Claudio È stato Un elemento importante Di quello Stuni Calcio Che all'epoca Sfiorò La promozione Allo spareggio Sfiorò la promozione Quanti bei ricordi Vero Gian Claudio Quanti bei ricordi Tanti 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 Questo significa Che un po' Stiamo invecchiando Se abbiamo i ricordi Di 1993 Scusa che siamo invecchiati Totalmente Troppo tempo Vabbè comunque Intanto Stiamo sempre a parlare Di calcio Quindi significa Che in qualche modo Ci piace raccontare Tu poi hai iniziato Un bellissimo progetto Te l'ho detto Ti ho fatto i complimenti Ma te l'hanno fatti In tantissimi Per quello che sei riuscito A fare Con un progetto Che è partito dai giovani Ma che poi In qualche modo È passato Anche ai più grandi Perché hai deciso Di puntare Questi ragazzi Poi di farli giocare Nel campionato E sei cresciuto Sei arrivato Alla prima categoria L'anno scorso Come diceva il direttore generale Scalone Hai sfiorato la promozione Con la finale playoff Insomma Che progetto è Quello della BS Soccer Fasano Il nostro progetto Nasce per valorizzare I ragazzi Della scuola calcio Perché Riusciamo a inserire Nella prima squadra Ragazzi di 15 16 17 anni In pratica Il 18enne Per noi È già grande Poi Logicamente Per dare loro Un po' di guida Gli affianchiamo 7-8 elementi Con età Un po' più avanzata Per fare un po' D'allenatore in campo E dargli un po' Di esperienza E maturità Però il progetto Prevede solo Ed esclusivamente La crescita Di ragazzi Ecco Gian Claudio Inutile negare Che giocare A Ostuni Non è una partita normale Per te Diciamoci la verità Oppure È ormai Dimenticato Tutto La bellezza In fatto Tutte le esperienze A Ostuni È tutto dimenticato O qualcosa Ti suscita A giocare a Ostuni No Vabbè Ogni volta Che vengo a Ostuni Per me Affiorano sempre I più ricordi Della mia Vita calcistica Perché ho vissuto Tre anni Davvero belli Con uomini Con uomini in campo Non con giocatori Eh sì Una squadra di uomini Dove Ogni domenica Per noi Era fondamentale Dare il massimo Per far sì Che i tifosi di Ostuni Potessero avere Nel loro paese Una squadra degna Degna di loro Perché hanno un tifo Veramente Troppo bello Ed è stato Veramente Un sogno Giocare a Ostuni Gian Claudio In estate Ci siamo trovati Perché Mio figlio Che giocava Nella Una squadra giovanile Ci siamo incrociati E parlando Proprio Dice Parlando Del progetto Che stava nascendo E tu ti augurassi Effettivamente Sinceramente Che veramente Potesse andare in porto Perché la città di Ostuni Non meritava Quello che stava succedendo Alla fine Questo progetto È partito Ecco Ti aspettavi Lo Stuni In testa della classifica Di fatto Insieme a Fasano Dopo sei giornate La verità La verità È un progetto Che non possiamo Ambire Situazioni Di categoria Scuso Parliamo così Uno di quelli Che in campo Si faceva rispettare Ha il tuo carattere Questa squadra La tua squadra Io dico sempre I miei giocatori Che se Non c'è l'agonismo Di cambiare Sicuramente Non sport Ma proprio identità Perché l'agonismo Fa parte È la prima componente Che un atleta Deva avere Se non è un agonista Che non accetta Di perdere Non può Sicuramente Fare dello sport Allora Qui c'è Sandrino Scalone Con cui so Che vi siete anche sentiti Nelle ultime ore Gianclaudio È un sanguigno Uno di quelli Che in campo Si è sempre fatto Rispettare Che partita Vi aspettate Ecco Voglio dire Una bella partita A questo punto Una partita di vertice Una partita tesissima Perché tu immagia Che Ostuni In rampa di lancio Tutti ci credono Insomma Questo è un momento Importante Ma forse non decisivo Del campionato No Sicuramente Ci sono tante giornate A me fa piacere Disputare Anzi È un onore Per noi Disputare Una partita del genere Nel comunale di Ostuni Intitolato Pure un grande amico mio Sono veramente Onorato Di venire domenica A giocare Con la mia scuola calcio Perché Ripeto Che la nostra È una scuola calcio Non è una squadra O rappresentiamo un paese Noi rappresentiamo Un progetto iniziato 20 anni fa E che oggi Ci stiamo riportando dietro Cercando di cambiare un po' le regole Perché per me Un ragazzo valido A 15 anni Può già giocare nel mondo di grandi Si nasconde dietro la scuola calcio Però sappiamo Che domenica Non verrà a farsi la scuola calcio Qua Diciamo No sicuramente No no Adesso l'ho chiesto a Sandrino Non l'ho chiesto a te No no Noi viviamo le partite Partita dopo partita Non guardiamo in avanti Perché Tutte le partite Hanno la loro storia E quindi Vanno affrontate Nella maniera Migliore Poi Ti ho detto Il progetto Rimane quello Non spendiamo soldi Per fare la squadra E ci gestiamo Con le nostre risorse Sandrino però Aspetta Gianclario Adesso sentiamo Sandrino Che ti dice Innanzitutto lo saluto Poi Mi piace L'idea 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 di essere uno sanguigno Quindi Siamo in due Adesso questo Ne sono certi Del nostro modo di essere A livello caratteriale E' chiaro Lui Diciamo Ha questo progetto Che è partito tanti anni fa Quindi Diciamo Al piacere Di avere questi ragazzi Che li fa crescere Ma sicuramente L'ambizione Loro E' uguale A quella che abbiamo noi Quindi Noi Faremo di tutto Per poterla vincere La partita Come faranno pure loro Perché Nel calcio Come diceva lui Ed è importante Questo aspetto Non credo Che c'è qualcuno Che non abbia Quel desiderio Voglia Di salire Quindi Di là Del progetto Che io condivido E gli faccio i complimenti Perché Ha una struttura Bellissima E anche Un Diciamo Un grande potenziale Soprattutto Della parte dei giovani Fatto un bel mix Con i Con gli anziani Però Caro Gian Claudio Io credo Che vuoi vincere pure tu Come me Al cento per cento Non voglio perdere neanche Con mio figlio Ci siamo capiti Allora Nella maniera più assoluta Rispettiamo sempre I nostri avversari Però L'obiettivo È quello Di vincere la partita A tutti i costi E poi Se viene Ebbene Se sbagliamo qualcosa Ci sta pure Però Va bene Gian Claudio Stanno arrivando messaggi Anche su facebook Di tifosi che ti salutano Che In molti Ricordano Si ricordano Tanto di te Ci sono i giovanissimi Che magari Non ricorderanno Questo conferma Che ancora una volta Che stiamo crescendo Stiamo andando In lago gli anni Va bene Ma detto questo Ci abbracceremo domenica Comunque vada Ci abbracceremo Grazie ancora Buona settimana Anche a te Ciao Gian Claudio Ciao Un abbraccio Ciao Insomma È il bello del calcio Questo è il bello del calcio Perché se non ci fossero Queste Anche queste motivazioni In più E insomma Una giornata Che sembra un po' Dai risultati tranquilli Per le altre Quindi bisogna vincere Bisogna vincere Punto e basta Anche se poi Nel calcio Non c'è niente Di scontato Però bisogna vincere Quella regola Che dicono È importante partecipare La vedo un po' Non tanto per la quale È chiaro che Il nostro intento È quello di Continuare questo percorso Che abbiamo iniziato Però Dobbiamo rispettare L'avversario Che Come ho già detto prima È una squadra Importante Non ci sono solo giovani Nel Fasano C'è qualche No no Ce n'è Ce n'è C'è gente Esperta E quindi Voglio dire Non Non credo Che sarà una partita facile Né per noi E nemmeno per loro Eh beh Francesco Voi cominciate Riprendete Gli allenamenti domani Giusto Quindi ancora Non avete cominciato A parlare della partita Ma il mister Da un punto di vista Tattico Magari in prima categoria Si pensa che si faccia Poca tattica Ma immagino che Bruni la partita La cominciate ad analizzare A vedere Gli manca forse Qualche filmato Però disse che Qualche suggerimento Gli arriva Qualche uccellino Ma a parte Le battute Ha sbagliato il rigore Simone Bari Domenico Come c'ha l'anogulo Più o meno Anche lui È una persona umana Quindi Ha sbagliato C'ha l'anogulo Ma ha sbagliato Anche lui E beh Come non dire Succede Succede Ci manca Allora I rigori Non li sbaglia Chi non li tira Quindi Chi li tira Può succedere pure Che li sbaglia Già Uno che si prende Quella responsabilità Non è una cosa Di poco conto Quindi Voglio dire Non mi sembra Voglio dire Non è giusto Adesso No va bene Per chiarità Però Va bene così Io apprezzo Siccome È una cosa Che io apprezzo Quelle persone Che hanno Quella caratteristica Quella personalità Di prendersi il pallone E andare a calciare Tra l'altro Se le va a prendere lui Solitamente i rigori Voglio dire Il secondo che si procura È vero E quindi è giusto È giusto No ma è È il rigorista Della squadra E lui Quindi è giusto Che voglio dire Ritira lui Poi Domenica non è andata bene Ma voglio dire Lui Io lo apprezzo Proprio per questa Sua Diciamo Capacità Di Di avere Nel momento in cui Capitano questi episodi Di andare lì A calciare Io volevo sapere Perché Moodoo Quando fa gol Ah Moodoo Quando fai gol Fai dal direttore Perché? Perché sono Una brava persona Mi voglio bene Quindi io non sono Una brava persona Ma detto questo È bellissimo Vedervi che vi guardate Quando fa gol Quindi cerca di fare Più spesso Così magari uno Ogni tanto Lo dedichi a noi Che stiamo sopra Dall'altra parte Va bene Allora Apriamo una parentesi Veloce Anche di Di calcio 5 Ovviamente Poi torneremo a parlare Ci sono indicazioni Particolari Troppo presto Per domenica Ci sono indicazioni Particolari Di Cioè Prima si arriva Allo stadio E meglio è Come sempre Come sempre La partita è alle 4 Però prima si arriva Meglio è Così si può sostenere La squadra Anche durante il riscaldamento E altre indicazioni Ancora magari Ce le farete sapere In settimana Man mano che Andiamo avanti Anche perché Credo che domenica Come tutte le domeniche Noi Voglio dire Stiamo avendo il piacere Di avere un pubblico Che in queste categorie È difficile Che si veda Pubblico fantastico Perché vedi Domenica Sono venuti a Taranto Erano più Gli ostonesi Che quelli locali Quindi Questa gente Che ha questa voglia Questa dedizione A noi È come se ci dessero Quella spinta in più Per cercare di migliorare Sempre Questo aspetto Di questo progetto Quindi Noi dobbiamo dire Veramente Grazie a questi Diciamo Tifosi Che seguono la squadra In tutte le maniere Anche Voglio dire Voglio dire Diciamo Trascurando altri aspetti Perché uno Eh sì Allora Andiamo a vedere Intanto La bella vittoria Del Del Puzza Allo Stuni In casa Contro Il Taranto 9 a 3 Una dichiarazione Della Relatore Veneto Mister Veneto Ai nostri microfoni E poi Andiamo in chiusura Di trasmissione Una vittoria netta Contro Taranto Per riprendere la corsa E per Insomma Lanciare anche un segnale Al campionato Com'è andata stasera? Eh ci siamo allenati Molto bene Durante questa settimana E tutto il lavoro Che abbiamo Provato e riprovato Finalmente ha dato i suoi frutti Venivamo Veniamo da due sconfitte consecutive Una in campionato Una in coppa Diciamo che questa è una bella dimostrazione Che anche noi possiamo dire la nostra In entrambe le competizioni Ecco Diamo uno sguardo al campionato Che Prospettive ci sono per questa stagione A questo punto Non ci nascondiamo Ma nello stesso tempo Non Ci sono tantissime squadre Attrezzate a vincere il campionato E quindi Dobbiamo ogni giorno Dimostrare il massimo E fare il massimo Perché non possiamo Cullarci Perché abbiamo dimostrato Che su partite Dove il risultato Forse Poteva essere scontato Abbiamo lasciato i tre punti Eh Sì Pensi di poter cambiare qualcosa Nell'organico Nei prossimi mesi O la squadra sarà questa? Diciamo che la squadra Al momento è al completo Sono rimasti due ragazzi Importanti fuori Per scelta tecnica Però Abbiamo delle rotazioni varie E ci potrà essere sempre qualcosa di diverso Intanto Vi godete anche questo Bell'affetto del pubblico Anche stasera Palazzetto pieno Insomma L'attenzione c'è su di voi? Assolutamente sì Loro sono l'arma in più Che ci permette di dare sempre il massimo E grazie a loro Anche l'anno scorso Che ci hanno seguito in Coppa Sono il nostro punto di forza E complimenti anche al Fuzzalo Stuni Che è terzo in classifica Dopo Fuzzal Grotte C'è Ostuni E Lecce Con nove punti Chiaramente Campionato lunghissimo Anche qui Parliamo della C2 Girone B E Ci piace in questo spazio Dedicare Appunto Spazio Scusate la ripetizione A tutto lo sport ostunese Francesco Da Ostunese Sicuramente Questa rinascita Del calcio Non può che fare Piacere Ecco Come stai vivendo Tu da Ostunese La rinascita Del calcio Diciamo che Ostuni Ci sono già stato Ci sono stato Due anni fa Ma questa è una situazione Diversa Sì Diciamo che è diversa Perché Alla fine Sì La gente viene al campo La domenica Ma Non come quest'anno Quest'anno Vedi famiglie Vedi bambini Vedi Il gruppo Oltre che si è riunito Estrema appartenenza Che ci sei con ogni domenica Che Sono il nostro 12esimo uomo in campo E' bello Entrare in campo La domenica E vedersi tutta la tribuna Piena Ma sentite Ecco Se riusciamo a rimettere Da quella tribuna Andrea Perché Ostuni La tribuna di Ostuni Che Davvero fa effetto Dicevo Vi sentite una responsabilità In più Per il fatto di alzare Perché Gomez L'altra volta Disse che Guarda spesso Io immagino Che i giocatori in campo Non guardino La tribuna Invece Invece pare che non sia vero Perché la guardate spesso Io Su 90 minuti Non ti dico Che la guardo sempre Però Quando la palla sta fuori Magari un'occhiata La do E' bellissimo Ti dà Quella carica in più Ti trasmette proprio voglia Di giocare Segnare Vincere tutte le partite E stare sempre lì Su ogni pallone E poi è bello Quando vai a segnare Che vai sotto di loro Bellissimo Come è successa nella prima giornata Ho avuto la fortuna di fare L'uomo è importante E' pesantissimo Quel gol che ha fatto Ma non è venuto dal direttore Però bisogna Vabbè magari il prossimo Tanto lo sapete dove si mette Si mette sempre nella tribuna Di fronte Vicino al nostro Lilo Zaccaria Che mandiamo a fare le immagini Da quella parte E quindi Si mette vicino là Guardate che spettacolo E queste fanno in giro Queste immagini Cari amici Vi dico che Ci hanno chiamati Per chi ci ascolta in radio Vedere la tribuna Così piena E festante Non è facile Da trovare neanche in serie D Si vedono delle tribune In serie D Mezze volte Per cui Godiamoci questa ripresa Sappiamo anche Che non è facile Mantenere l'entusiasmo E sarà compito Di ciascuno di noi Crescere insieme Io vorrei concludere Che Il nostro obiettivo Era quello Di creare questo progetto Ma L'altro obiettivo Importante Era quello Di riportare Al campo Le famiglie I bambini In un clima Di serenità E questa E' una delle cose Che ci sta Ci stiamo riuscendo Voglio dire Con l'aiuto di tutti Chiaramente Non è che è solo Merito nostro Però Guardate Dove va E' una delle cose E' una delle cose Che noi siamo Orgogliosi Scusami però E mi sembra Ma Ha fatto bene Perché io Mi emoziono Quando vedo queste cose Lo so Ma l'abbiamo sottolineato Anche in telecronica Guardate Quando si esce E finisce la partita Grandissimo Entusiasmo Questo è il gol Di serio Giusto Stiamo Alla prima giornata Di campionato Contro il Noi Cattolo Il terzo gol Questo è il terzo gol Perché il secondo Invece fu di Frumento Va bene Va bene No il primo di Frumento Il primo di Frumento Il secondo è stato Di Moutou E questo fu il primo L'unico gol Questo è l'unico gol Che lo Suni ha subito In campionato Finora Un gol Che è fotocopia Di un'azione Che tra l'altro Su cui Lo Suni ha rischiato Una partita Contro il Noci Un'azione fotocopia Su quel secondo falo Bisogna fare un po' più Di attenzione Possiamo dirlo? Diciamo Questo è un argomento Che dovrebbe Trattare il mister Però effettivamente No vabbè Ma io lo diciamo Anche l'altra volta In realtà È più o meno Una fotocopia Però c'è Cocozza Che in questo caso Diciamo che È stato Sul pezzo Sul pezzo Sul pezzo Va bene Allora Abbiamo anche Da mostrarvi La bella vittoria Delle ragazze Della Lightning Ostuni Ieri Contro Castellana Perché C'è una squadra Femminile Lightning Che sta facendo Davvero molto bene Intanto Una notizia Veloce Ma la dobbiamo dare Circolo Tennis Ostuni Notizia Da Manduria Giulia Semeraro Vince il master Di quarta categoria Femminile Complimenti Giulia Semeraro E al Circolo Tennis Ostuni Ed ecco qui La foto Della vittoria Di Giulia Cercheremo Di darvi Anche Tutte le notizie Possibili Perché Dobbiamo Tutti insieme Portare su Questo sport Di Ostuni Allora Prima di concludere Con i saluti Dei nostri ospiti Andiamo a vedere Com'è andata Per la palla a volo Per la Lightning Ostuni Vittoria 3 a 0 Contro Il Castellana E poi Torniamo in studio Per i saluti Un commento Sulla vittoria di oggi Sì Allora Devo fare Innanzitutto Complimenti alle ragazze Perché hanno fatto Una grandissima partita Sono state concentrati Sono entrate in campo Seguendo le indicazioni Che gli erano state Dette in settimane Sulle quali Abbiamo lavorato Quindi si vede Che stanno migliorando Che il lavoro Che stanno facendo In settimana Sta andando bene E questi sono i frutti Quindi adesso Siamo a due vittorie E una sconfitta Purtroppo Nella partita Scorsa E un buon segnale Per il proseguo Abbiamo avuto in passato E ci stanno Trovando bene Quindi 3 a 0 La formazione Del castellana Complimenti Alla formazione Del presidente Osvaldo Inossidabile Osvaldo Ippolito Bene Allora Noi siamo in chiusura Abbiamo Ci siamo sincerati Delle condizioni Di Samuel Gomez Per cui domenica Lo vedremo in campo Abbiamo Capito Che domenica Sarà una gara Durissima Contro un Fasano Che verrà Per giocassera Nonostante Le dichiarazioni Del mister Che dice Che sono una scuola calcio Detto questo Domenica Vedremo una gran Bella partita Quindi ci vediamo Domenica Allo stadio Ore 16 Per questo Stuni BS Fasano Soccer Fasano Che Si gioca appunto Nino la Veneziana Alle 16 Ci divertiremo Speriamo di sì Modul Non ti dimenticare Che bisogna far gol Lo ricordiamo a tutti A tutti i giocatori Sandrino Te lo dirà Va bene Grazie ancora A chi ci ha seguiti Da casa So che siete stati Tantissimi anche stasera Grazie ad Andrea Zaccaria Che ieri si è assorbito La trasferta Di Tarsano Nonostante le difficoltà Perché avete visto Dove poi Ci si deve posizionare Su un tetto Va bene Ma poi Ce ne ricordi Quando un giorno Saremo più Su ce ne ricorderemo Va bene Consentitevelo Grazie a Sandrino Scalone Direttore generale Della SD Ossunicalcio24 A Soemudu E a Francesco Frumento Grazie Buona settimana A voi Perché Le partite si vincono In allenamento E durante la settimana Sono frasi fatte Ma pare che sia così Veramente Va bene Grazie ancora Grazie a chi ci ha seguiti Da casa Grazie a Andrea Zaccaria Grazie a tutti Alla prossima Ci vediamo lunedì Vendenuti In ogni sport In ogni tronco E colore La voce si alza Il ritmo ci trascina Siamo tutti in campo In questa avventura divina Con Francesco e Gianmarco Che raccontano Col cuore Ogni partita Ogni sogno Ogni emozione Con la forza Di chi ama E non si arrenderà Osturi giallo blu La nostra città Brillerà Osturi giallo blu Cuore e passione Sono il nostro motore Osturi in ogni sport Di ogni tronco e dolore La voce si alza Il ritmo ci trascina Siamo tutti in campo In questa avventura divina